buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione oggi ragazzi risponderò ad una signora la quale mi ha chiesto ma qual è la differenza perché conosco diversi di conosco l'ipnosi però non capisco il suo metodo qual è una delle differenze più importanti dell'ipnosi dcs del metodo dcs dell'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola bene uno dei metodo uno dei dei paletti pilastri fondamentale la suggestione ragazzi perché tutti sanno dipingere tutti sanno fare ipnosi ma non tutti sono artisti e ti posso garantire che i miei maestri il professor dottor michel angel garai la dottoressa rina brunini sono i non plus ultra nel mondo anche se poco reclami reclamizzati conosciuti come milton erickson deve elman brian weiss ed altri famosi guru molto bravi nella pubblicità nel farsi conoscere al mondo intero ma il fatto che uno non sia conosciuto non significa che sia inferiore ad un altro perché ricordati molti pittori famosi come picasso van gogh eccetera sono usciti alla ribalta non in vita ma dopo la morte e addirittura in vita erano stati sbeffeggiati criticati sminuiti e addirittura considerati poco e niente quando sono morti qualcuno ha preso in mano le loro opere e le ha fatte conoscere al mondo intero bene il sottoscritto oltre ad essere un professionista dell'ipnosi dcs vera e professionale aver fatto tutti i corsi sul campo in pratica con la dottoressa rina brunini di los angeles baby reels salvando suo padre dall'ictus fulminante nel 2008 e che si protizza mi protiso dal 2008 ad oggi posso garantirti che ho a disposizione tutte le suggestioni importanti per ogni caso dell'associazione ipnologia associati di los angeles e il mio obiettivo è quello di sdoganare questo metodo questi due grandi dell'ipnosi clinica e diffonderla a tutto il mondo finché sono su questa terra poi se tu pensi che facendo ipnosi sei all'altezza perché trattasi solo di parole di suggestioni bene accomodati benvenga se qualcuno con il proprio nome aiuta la gente però sappi che da quello che conosco io il sottoscritto ha fatto tanti altri corsi internazionali di ipnosi che ti insegnano ad accendere l'autovettura ti danno degli script dei copioni ma alla fin fine non hanno quell'effetto che hanno le suggestioni della mia associazione ipnologia associati per vari motivi perché per utilizzare delle suggestioni bisogna essere un artista delle parole bisogna essere un artista vero dell'ipnosi e non un un conoscitore oppure un professionista dell'ipnosi ad esempio nell'ipnosi conformista e commerciale esistono tante suggestioni ma pochi quando io scrissi per mio padre sull'ictus ma anche il sottoscritto quando provò da autodidatta a salvare a salvare suo padre mio padre con l'ipnosi non ci sono riuscito anzi ebbi paura pure perché non usavo le parole giuste quando invece scrissi in tutto il mondo l'email in inglese francese italiano giapponese eccetera eccetera tutti anche medici che usavano l'ipnosi dicevano nel 2008 non è possibile fare nulla con l'ipnosi su casi di ictus bene solo la dottoressa rina brunini di los angeles beverly hills disse trattiamo abbiamo aiutato tante persone con paralisi a los angeles e anche online e di lì con una seduta online di 30 minuti 100 dollari da più di 11 mila chilometri di distanza mio padre si alzò e camminò come per miracolo come per magia il miracolo della sua mente fu incredibile dall'inizio la mia avventura con la dottoressa rina brunini per cui le parole non sono parole ragazzi le parole esprimono energia perché se fossero uguali allora tutti anche da soli dicendo voglio smettere di fumare voglio smettere di ingrassare voglio smettere di stare male voglio smettere di essere triste allora ci riusciremo subito invece non è così oppure faccio un altro esempio molte volte mi hanno dato degli script in altri corsi internazionali di ipnosi molto rinomati e conosciuti ma applicandoli non hanno avuto la stessa energia lo stesso potere delle suggestioni della dottoressa rina brunini del professor dottor michelanghi le garai mie maestri mie mentori per cui chi dice tanto sono parole l'ipnosi bla 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 sta dicendo una fregnaccia permettimelo perché stai parlando con una persona che le ha viste toccate tutte e oltre al metodo che è importantissimo ma soprattutto la suggestione è fondamentale fondamentale ragazzi fondamentale ok per cui seguimi fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis gratis visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino a facer condividi con amici parenti perché può essere quel qui della molla famosa che ti fa cambiare la vita o fa cambiare la vita al tuo caro anche contro la sua volontà e visita anche i profili instagram e twitter benessere i propri soluzioni di cese del dottor claudio saracino e alla prossima ricordati non credere a nessuna parola mia prova prova e poi giudica sui fatti in bacio ciao